la biga con la braccia tuffanti ha fatto un avviamento poi ho pensato di fare il video ci hanno messo cinque secondi di avviamento questo è tutto si parte ora è una classica biga a 45 per cento di idratazione vedete che rapidamente primo minuto secondo me già siamo vicini alla meta che bella struttura però seconda parte vedete le sono formate le trofie quelle che noi chiamiamo trofie gli straccetti vedete sono molto bella non c'è più farina sciolta libera quindi possiamo dire che siamo arrivati totale 30 secondi con minuto di là diciamo un paio di minuti per arrotondare perché sennò c'è il rischio che si ammassi qui si continuiamo è Grazie a tutti.